Benvenuti a tutti da GameTube Italia, con la video guida di oggi andremo a vedere la posizione di tutti i collezionabili presenti in The Last of Us Parte 2. Prima di proseguire vorrei invitarvi ad iscrivervi e a mettere mi piace, ci aiuterebbe molto a migliorare i contenuti che portiamo e ad aumentare la costanza. Grazie! Vi invito inoltre a leggere la descrizione, troverete tutte le informazioni necessarie per aiutarvi all'ottenimento del plan. Senza ulteriori induris, vi invito alla vita. Ciao e alla prossima! Grazie!